12 e 2 minuti, in realtà tre in questo istante, noi apriamo subito il collegamento con il nostro Antonio Nucera di Sky. Antonio, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, ben ritrovato, post Pasqua, non so se tu sei un po' appesantito come noi o meno, ma comunque insomma... Un pochino, sì. Un pochino, piacevolmente però, solitamente è una roba abbastanza piacevole. Piacevole questo campionato di calcio, secondo te anche o meno? Sono due giornate che dobbiamo commentare insieme, quindi come procede la situazione? In questo momento aspettiamo il risultato di stasera della Juve, che sarà, credo, a questo punto decisivo, visto che poi mancheranno solo tre giornate alla fine. Quindi dovesse superare l'Ostacolo Sassuolo e restare con il più otto sulla Roma, possiamo dire che il discorso è abbastanza concluso. Dovesse invece sbagliare questa partita, con cinque punti e tre giornate alla fine, ancora uno scanto diretto, potrebbe in qualche modo riaprirsi. Anche se il calendario della Juventus mi sembra ancora abbastanza semplice rispetto a quello della Roma, perché al di là della partita dell'Olimpico, al 9 di maggio, avrebbero due partite giocabili contro l'Atalanta in casa e poi l'ultima contro il Cagliari, sempre in casa. Aspettiamo i risultati di oggi, però in linea di massima solo la Juve potrebbe buttare via questo campionato, visto la situazione attuale. Questo è sicuro. Dietro invece, insomma, Roma e Juventus, che sono lì fisse nelle prime due posizioni, da lì non le schioda sicuramente nessuno, come nessuno credo potrà inficiare il terzo posto del Napoli. Per quanto? Poi la Fiorentina non sia lontanissima, ma bisognerebbe avere un crollo, tra l'altro le due si affronteranno molto prima, sabato prossimo, nella finale di Coppa Italia. Sì, diciamo che credo le prime tre posizioni siano abbastanza delineate ormai, si gioca per quarto, quinto e sesto per le posizioni dell'Europa League, probabilmente il quarto posto della Fiorentina, anche questo mi sembra ormai abbastanza definito, così come il quinto dell'Inter. Invece c'è molta battaglia per l'ultima posizione che porti in Europa, lì sono in ballo almeno cinque squadre, quelle che sono a 52 in questo momento, cioè Torino, Lazio e Verona, leggermente avvantaggiati sulle due a 51, cioè per me Milan. Però aspettiamo gli sconti diretti della prossima settimana che potrebbero dire a questo punto una parola anche decisiva, perché c'è la Lazio che è lì, pronta a approfittare di eventualmente un passo a passo nel Torino, la Lazio gioca in casa col Verona. Se la Lazio vince e il Toro non vince a Verona col Chievo, a quel punto diventerebbe la Lazio la favorita per l'ultimo posto in Europa. Quindi lunedì prossimo dovremmo, credo, avere le idee un pochino più chiare, considerato poi che alla penultima la Lazio va a Milano con l'Inter e all'ultima al Bologna, insomma, a quel punto la Lazio sarebbe giudice del proprio destino, dovesse superare il Toro in classifica la prossima settimana. Sì, tra l'altro in questa mega sfida, l'Inter che poi in realtà è ancora più in alto, perché fatta a salvo il quarto posto della Fiorentina, mettiamo finisca così, poi c'è l'Inter a 57, l'altra a 52, a 51 Parma e Milan. L'Inter che forse è la più brutta però di quelle che inseguono, perché Torino e Verona, insomma, stanno facendo un gran bel campionato. La Lazio bella non è, devo dire, però quanto meno efficace, l'Inter è sempre un po' sottotono. Tra l'altro questa partita con il Napoli, boh, Antonio, non so che cosa pensi tu, però più bruttina. Pensavamo tutti meglio, perché come qualità di gioco non ha espresso grandissime cose. Va anche detto che giocare contro il Napoli non è proprio semplicissimo in questo momento della stagione, quindi lo 0-0 tutto sommato gli permette di muovere la classifica e tenere lontane quelle dietro. Però la riprova del momento di forma dell'Inter l'avremo nel derby, perché mi sembra che chi esce battuto nel derby della prossima settimana tra Milano e Inter diciamo che deve pensare anche un po' a ricostruire a livello di squadra in estate, perché dovesse perdere l'Inter comunque dovrebbe avvicinarsi quelle dietro, appunto come dicevamo prima potrebbero essere il Torino che credo vincerà a Verona col Chievo e la Lazio che probabilmente in casa vincerà col Verona. Quindi dovesse perdere l'Inter dovrebbe arrivarsi a meno due sia Lazio che Torino e poi la settimana dopo ci sarebbe anche Inter-Lazio. Quindi il derby di Milano sarà decisivo sia per Mazzari che ovviamente anche per Stedorf, anche se in questo momento mi pare che ci sia abbastanza una confusione a livello di ruoli al Milano. Quindi tra Milano e Inter probabilmente quella messa meglio, quella che arriva un po' più tranquilla è l'Inter rispetto al Milano che sta vivendo situazioni molto confuse. Beh sì, l'Inter quantomeno ha più serenità, insomma non grandissimi risultati, però comunque l'appoggio del Presidente all'allenatore, la consapevolezza forse con Cammino anche in un momento di cambiamento che deve trovare, ovviamente delle limmature, per andare meglio, si punterà sul mercato, ora vedremo poi di che caratura sarà questo mercato italiano nella parentesi estiva, però comunque mi sembra una base abbastanza serena. Invece nel Milano è un papocchio totale, cioè si discute tutti contro tutti e Stedorf ha dichiarato delle cose, è subito stato rimbrottato perché non c'era il permesso forse dell'intervista, lui che continua a sottolineare che ha due anni e mezzo di contratto, insomma c'è sempre qualcuno nervoso comunque. Sì, credo che il destino di Stedorf sia abbastanza segnato, cioè probabilmente si arriva a fine campionato e poi ognuno va per la sua strada, nonostante i due anni di contratto successivi, però non credo che con questa situazione ci siano i presupposti per andare avanti anche nel prossimo campionato. Probabilmente la scelta cadrà su un allenatore emergente italiano, quindi il favorito secondo me rimane Inzaghi, perché conosce tutti molto bene in casa Milano e anche perché gode, credo, della fiducia della società. Quindi tra Stedorf e Inzaghi direi che in questo momento il grande favorito rimane Pippe Inzaghi. Stedorf è arrivato due mesi fa, ha firmato questi due anni e mezzo di contratto, probabilmente le cose sono un pochino cambiate rispetto a quando lui ha firmato il contratto, adesso ovviamente nessuno in società lo mette in discussione ufficialmente, ci sono ancora tre partite da giocare, tra cui il derby, però sono abbastanza convinto che a fine campionato ognuno prenderà poi la sua strada e Stedorf cercherà un'alternativa per il prossimo campionato. Un Milan che poi al di là dell'allenatore deve comunque ricostruire perché non ha gioco di nessun tipo. Sì, bisogna vedere adesso il nodo fondamentale, vedere quanto ci sarà da investire come budget sul mercato, e lì cercheremo appunto di capire se la gestione del mercato e della cassa per fare mercato sarà di Barbara Berlusconi o di Adriano Galliani, perché non ce lo rimane sempre quello, insomma vedere chi gestisce cosa. In questo momento l'area tecnica, l'area sportiva, mi pare di capire che sia sempre nelle mani di Galliani che non sta prendendo posizione né pro né contro Stedorf, anche se il suo silenzio mi sembra abbastanza eloquente. Però aspettiamo, ti dicevo, fino a fine maggio e poi lì si capiranno tante cose. Come dicevamo prima, gli investimenti sono tanti, perché la squadra va ricostruita in tutti i settori e dovrebbero cedere qualcuno per fare cassa e con quei soldi comunque aiutarsi sul mercato. dei giocatori attuali del Milan, cioè non ne vedo tantissimi, che abbiano un grande mercato e che possano portare soldi freschi in cassa. L'unico credo sia Balotelli e probabilmente si andrà verso una cessione in estate di Balotelli. È molto ampiamente possibile questa tua ipotesi. Secondo te Cacar resterà invece al Milan? E altra domanda, se dovesse essere veramente poi Barbara a muovere i fili e le fila anche di questo mercato, Galliani rimarrà? Potrebbe andar via anche lui in un momento storico in cui gli uomini di Berlusconi anche politicamente stanno cambiando un po' strada? No, se dovesse restare senza un ruolo attivo sull'area sportiva e tecnica credo che non accetterebbe. Dovesse invece rimanere con i ruoli decisionali sul mercato a quel punto potrebbe anche decidere di andare avanti almeno per un'altra stagione. Però è difficile vedere un Galliani depotenziato, rimanere in società ma senza voce in capitolo sull'area sportiva della prima squadra. Quindi da quel punto di vista questo lo vedremo abbastanza in fretta. Appena finisce il campionato queste cose verranno chiarite rapidamente. Sul discorso del mercato ti dicevo, secondo me Balotelli è destinato ad andare via e considerato che soldi in casa in questo momento per fare il mercato non ce ne sono mi pare che sia una scelta quasi obbligata. Quindi da qualche parte bisogna andare a prendere della liquidità per spenderla poi a fare il mercato a giugno e luglio. Sì, tanto più che poi in Italia viene anche molto discusso, spesso paresa dei malumori sottolineando anche che all'estero sono più d'accordo con lui. Questi sono anche gli ultimi tweet dopo una giornata abbastanza nervosa in cui si ha dibattuto anche proprio con lo studio delle televisioni autorevoli e dopo una partita sicuramente sottotono effettivamente per tutto il Milan non solamente per lui però è un po' più protagonista nel bene e nel male. Poi se ne parla di più su questo ha anche un po' ragione. Più avvincente invece la sfida in coda se vogliamo attendendo il Sassuolo che potrebbe in qualche modo condannare il Bologna anche se pensiamo tutti che in realtà cambierà poco. Difficile. Rimarrà un ex equo a 28 punti, questa è la previsione. Difficile anche perché il Sassuolo in casa ha perso 11 partite sulle 17 che ha giocato hanno perso 11 quindi non credo che abbia i mezzi per fermare la Juve anche se comunque nel calcio è tutto veramente possibile però mi aspetto di vedere comunque una situazione di classifica stasera esattamente come quella che vediamo stamattina quindi con Sassuolo e Bologna a 28, con Livorno a 25 e Catania a 23 anche se il Chievo che ho visto ieri perdere a Genova con la Sampdoria deve stare comunque molto attento perché a 30 punti non sei assolutamente tranquillo. Mancano tre gare quindi di tranquillità ancora non si può sicuramente parlare. Invece il Catania Antonio è già retrocesso secondo te o metterà comunque domenica prossima nella sfida alle 15 con la Roma tutta la convinzione che ha per poter sperare in un qualcosa di forse isperabile? No, credo che la partita decisiva fosse quella di ieri cioè vincendo a Verone e comunque rilanciandosi a 26 si sarebbe avvicinato a meno due dalle due scuole che sono a 28 punti e avrebbe anche avuto possibilità di agganciarle. Così con tre partite soltanto da giocare in questo distacco credo che ormai la situazione sia andata probabilmente avremo la matematica certezza della retrocessione domenica prossima perché non mi pare che in questo momento la Roma sia un avversario alla portata del Catania quindi se il Catania perde con la Roma come credo abbastanza probabile con 23 punti poi ne mancherebbero solo due alla fine e quindi potrebbe arrivare già il primo verdetto matematico per la retrocessione la prossima settimana. Ha sprecato molte occasioni quest'anno il Catania. Tante. Ha sprecato tante, l'ultima quella di ieri col Verona poi due settimane fa quando ha perso in casa col Torino insomma ne ha buttato via una marea di possibilità di rilanciarsi e credo che adesso il Catania sia praticamente andato e il Livorno mi sembra sulla strada del Catania perché anche la partita di ieri con la Lazio era più o meno l'ultima spiaggia per rilanciarsi. Eh sì, tra un po' ci vivremo un po' questo gioco dell'ascensore che sale e che scende Antonio. Io rimango dell'idea che sia una Serie A troppo lunga semplicemente perché già il livello si è tanto abbassato ma comunque chi sale spesso viene destinato a retrocedere quasi subito perché non è proprio al livello non ha le forze per poter lottare seppur in un campionato, ripeto, di bassa caratura poi rispetto a quello di qualche anno fa. Pensi che chi salirà dalla Serie B visto che anche lì insomma più o meno ci siamo e più o meno i ruoli sono degretati sarà un pochino più partecipe competitivo oppure vedi più o meno lo stesso livello e quindi chissà insomma che il campionato sarà. No, secondo me rispetto a quest'anno rispetto alle nuove promosse di quest'anno vedremo un pochino squadre più attrezzate soprattutto il Palermo che mi pare che abbia l'intenzione di fare cose serie in estate sul mercato. Già il Palermo ha vissuto tanti anni di Serie A è stata una parentesi quella di quest'anno della retrocessione in B ma come abbiamo visto è durata veramente poco insomma con Iachini che l'ha riportato subito in Serie A e non credo che l'anno prossimo faranno una squadra per lottare per non retrocedere anche perché come dicevamo prima il livello della Serie A si è abbassato quindi basta poco per avere una sformazione a metà classifica. Zamparini non ha grossi problemi a punto di vista economico quindi mi aspetto un Palermo che investirà parecchio e farà una squadra comunque stile Genoa a Sampdoria di quest'anno insomma Udinese quindi per un campionato sicuramente tranquillo a metà classifica sulla seconda che viene dalla Serie B ancora non abbiamo molto le idee chiare anche se Lempoli è sempre lì però Lempoli ha un altro tipo di bacino d'utenza rispetto al Palermo ha anche un altro tipo di possibilità economiche certamente inferiore rispetto a quelle di Zamparini quindi dovesse essere Lempoli a quel punto sarebbe un'altra di quelle squadre come diciamo prima destinata a lottare fino all'ultimo per non retrocedere e poi vedremo quale sarà la terza però quest'anno con il playoff allargato della Serie B andranno sei squadre a giocarsi i playoff di giugno quindi ancora è veramente impossibile definire quale potrebbe essere la terza squadra promossa dalla Serie B bisogna aspettare almeno almeno 20 giorni probabilmente dovremo aspettare e dobbiamo aspettare anche per capire perché andiamo oltre manica Antonio scavagliamo un po' dal nostro campionato facciamo una piccola panoramica su quelli esteri e la prima che ci viene in mente in questo momento è la Premier perché si fa vincente aspettavamo dopo la vittoria del Liverpool questa sfida con il Chelsea gli è venuto un po' il braccino è Rez? ma è venuto un pochino il braccino ma è venuto fuori anche tutto il talento di Mourinho perché nelle ultime due partite praticamente lui ha giocato due partite con tutta la squadra in difesa sia Madrid con l'Atletico in Champions sia ieri con il Liverpool e alla fine ha portato a casa un pareggio da Madrid e una vittoria da Liverpool quindi non si può contestare nulla perché come dicevamo anche l'ultima volta Mourinho è uno molto concreto uno che guarda i risultati e vuole portare a casa vittorie insomma gli piace vincere quindi a qualunque costo anche per portare a casa questo risultato da Liverpool ha sacrificato un po' lo spettacolo e si è messo dietro aspettando gli avversari ripartendo abbiamo visto come è finita adesso il calendario non è proprio facilissimo per il Chelsea perché manca manca pochissimo alla fine e comunque anche dopo la vittoria di ieri sono dietro quindi con queste due partite che rimangono per chiudere il campionato dovrebbe vincere tutte e due e lì diciamo che più o meno insomma ce la potrebbe anche fare visto che gli avversari sono Norwich e Cardiff il problema è vedere cosa fanno gli altri perché non credo che il Liverpool perda due punti in queste ultime due giornate di campionato anche se appunto siamo abituati a vedere sorprese di tutti i tipi però con due partite soltanto da giocare mi aspetto di vedere un Liverpool sicuramente è vincente col Crystal Palace alla prossima settimana poi l'ultima con Newcastle parte nettamente favorito quindi per ora le cilarchie rimangono quelle quindi Liverpool davanti Chelsea dietro c'è l'incognita Manchester City che ha ancora una partita da recuperare quindi con i suoi 77 punti meno 3 dal Liverpool ma una partita da recuperare il City effettivamente potrebbe anche arrivare però bisogna sempre ricordare che la prossima il City ce l'ha su un campo tosto perché va in trasferta con l'Everton e li può anche tranquillamente perdere quindi il vantaggio di avere una partita da recuperare quel punto sfumerebbe non è una situazione facilissima per il City chiaro se vince con l'Everton fuori casa poi tutto veramente può succedere perché va a prendere il Liverpool e a due giornate alla fine sarebbero in due in testa alla classifica però ti dico secondo me la partita con l'Everton fuori casa mi sembra veramente molto complicata insomma potrebbe venire fuori un pareggio per il City ma non credo di più vediamo vediamo un pochino quello che accadrà aperta ancora anche la Liga Spagnola l'Atletico che è davanti insomma saldo a 88 punti il Barcellona che rimonta anche in nome di Tizio Villanova che ci ha lasciati proprio durante il weekend insomma un'altra delle perdite importanti in questi giorni peraltro di perdite sportive importanti ne abbiamo avute tante questa è quella che mette più tristezza perché comunque è molto giovane dopo un grande male però Barcellona che insomma di rimonta di cuore di cattiveria esempio in campo tra tutti quello di Dani Alves che risponde un po' ad una provocazione se vogliamo razzista con una banana che viene lanciata se la mangia come per dire non mi toccate insomma quindi è sempre scena interessante per drammatizzare un po' la situazione però Barcellona in questo momento mi sembra comunque fuori dai giochi perché avere quattro punti da recuperare a tre partite alla fine anche se c'è lo sconto diretto all'ultima mi sembra comunque un distacco veramente notevole e la corsa del Barcellona in questo momento è più che sulla prima in classifica la stanno facendo sul Real Madrid cioè rimane sempre per loro un traguardo importante è chiudere il campionato davanti al Real quindi questo può essere abbastanza fattibile sulla possibilità di andare a prendere l'atletico in testa della classifica oggettivamente ci credo meno anche perché ormai Simeone ha visto che il traguardo è lì nelle ultime tre partite no, non credo non credo perché le ultime tre partite sono tutte molto alla portata insomma adesso vanno in trasferta contro il Levante poi avranno il Malaga in casa e poi appunto l'ultima è Barcellona Atletico Madrid quindi se l'atletico vince con Levante e Malaga l'ultima partita di campionato a Barcellona sarà quella della matematica certezza insomma anche perché Barcellona a quel punto battendo magari l'Atletico Madrid farebbe addirittura un favore a Real Madrid consegnando lo scudetto al Real e sinceramente ci credo poco insomma che Barcellona all'ultima giornata di campionato ferma l'Atletico per dare poi la possibilità di vincere il campionato al Real di Ancelotti quindi dipende tutto da queste due partite dell'Atletico Madrid che se supera Levante e Malaga praticamente arriva a Barcellona con lo scudetto in tasca praticamente praticamente sì quindi insomma beh comunque adesso se le seguiamo tutte poi le commentiamo alla fine seguendo anche intanto la Champions l'Europa insomma l'uno di prossimo anche avremo diverse cosine da cui di cui dibattere ultimo flash per te Antonio in questa mattinata era un lontano 28 marzo del 93 ultimi due minuti di Brescia Roma un signore chiamato Vujodin Boskov disse dai facciamo entrare il ragazzino e lanciò in serie al nostro capitano Francesco Totti Boskov che a 82 anni ci ha lasciati che personaggio è stato per questo mondo dello sport beh è stato uno che ha sempre amato sdramatizzare tutte le situazioni che oggi invece vengono vissute un pochino con troppa tensione insomma spesso le sue battute come ti ricorderai erano finite sulle prime pagine dei giornali e erano servite anche per stemperare un po' le tensioni che c'erano intorno al mondo del calcio quindi personaggio che era un po' scomparso da una decina d'anni si era ritirato dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Serbia e si era un po' ritirato a vita privata anche se ogni tanto interveniva sui giornali con qualche dichiarazione insomma però diciamo che è un personaggio che mancherà e tra l'altro in giro non ne vedo tantissimi così credo che siano un po' personaggi in via distinzione purtroppo quella saggia leggerezza dovrebbe farci un po' da esempio ancora dovremmo riprenderlo un po' credo di sì ma sono abbastanza scettico siamo in due siamo in due caro Antonio intanto ti ringrazio di essere stato con noi in questo lunedì ci aggiorniamo la settimana prossima buon lavoro e grazie ad Antonio Lucera di Sky ciao ciao